I tre indebiti beneficiari hanno messo di dichiarare vincite al gioco per importi consistenti e comunque superiori a 20.000 euro. Uno dei tre soggetti è risultato evasore totale avendo percepito e non dichiarato negli anni dal 2017 al 2019 redditi derivanti dall'incasso di bonifici superiori a 10.000 euro per l'attività esercitata riconducibile a ristrutturazioni edilizie. Tenuto conto che la circostanza costituisce una causa ostativa alla concessione del beneficio, i finanzieri hanno denunciato i tre soggetti alla procura della Repubblica di Palermo e hanno sottoposto a sequestro preventivo le tre card reddito di cittadinanza segnalando gli indebiti percettori all'Inps per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca decadenza del beneficio e per il recupero coattivo delle somme già indebitamente percepite rispettivamente pari a 16.199, 26.619 e 24.296 euro. A Termini Merese le fiamme gialle nel corso di un controllo nel centro storico hanno individuato un venditore ambulante di prodotti ittici, in particolare neonata, la cui pesca è attualmente sospesa per effetto delle disposizioni imposte dall'autorità marittima ai fini del ripopolamento della specie faunistica. I militari hanno provveduto a segnalare l'uomo e l'autorità marittima, sono stati inoltre informati l'assessorato regionale delle attività produttive e l'Agenzia delle Entrate per le violazioni sulla tracciabilità del prodotto ittico e per l'omessa installazione del misuratore fiscale. Da successivi accertamenti è emerso che il venditore ambulante era percettore sin dal mese di ottobre 19 del reddito di cittadinanza. Per questo motivo i finanzieri hanno denunciato l'uomo alla procura e contestualmente sottoposto a sequestro preventivo la card del reddito di cittadinanza, segnalando il percettore all'Inps per l'irrogazione della sanzione amministrativa di revoca decadenza del beneficio e per il recupero delle somme indebitamente percepite ammontanti complessivamente a 12.800 euro.